Juventus-Roma finisce 1-0 per noi, protagonisti gli ex giallorossi, Pjanic, quattro occasioni creati, di cui la traversa nelle finali del secondo tempo, la più limpida. Benatia, che fa il gol, che vale questo risultato, una prestazione quasi perfetta alla sua, tranne l'errore finale su Schick, che ci poteva costare la beffa finale, proprio dello stesso Schick che poteva venire alla Juventus. Sarebbe stato tremendo, mi stava venendo un cocoyone, ma una super parata di Schick, salve al risultato finale, uomo-match. Un risultato importantissimo, fondamentale, una vittoria di carattere, di forza. Potevamo anche chiuderla prima con il Guain, non da lui. Abbiamo sofferto, soprattutto negli ultimi 20 minuti, dove ci siamo un po' chiusi, un po' troppo, ma è importante vincere. Allunghiamo sull'Inter, insomma, tre punti che ci fanno un bellissimo regalo di Natale. Volevo ringraziare Delio per la pazienza, sempre per la disponibilità, a Marcello, tutta la redazione e alle vostre famiglie. Auguri di buon Natale e cerchiamo di chiudere bene con il Verona e sempre fino alla fine, forza Juventus!